Siamo felici che l'app Junker funzioni adesso in tutta la foscana centrale che ci aiuta a renderci consumatori maggiormente consapevoli. Inquadrando il codice ambiente dei prodotti, infatti Junker ci dice di che cosa sono fatti e dove vanno conferiti, aumentando così la nostra capacità di scegliere prodotti con minore impronta ambientale. Junker ci ricorda quale contenitore esporre la sera, quando c'è il lavaggio delle strade, gli orari e dove sono localizzati gli ecocentri e ci permette inoltre di parlare direttamente con Alia. Alia che in questi giorni ha annunciato l'allargamento della propria presenza sui social media e anche attraverso questa app mira ad avvicinarsi alla propria utenza. Scaricate quindi gratuitamente Junker perché ci aiuta con intelligenza a migliorare la nostra infronta ambientale. Grazie. Scarica Junker adesso, è gratis e diventi subito protagonista dell'economia circolare. Grazie. Grazie.